Sì, ci raggiunge Leonardo Semplici, personalmente ritengo giusto pareggio. Ma sì, se non fai gol quelli che abbiamo sbagliato noi, poi giusto pareggio. Però insomma, l'occasione di Flock, l'occasione di Vicari, Chlamorosa e l'occasione di Gigoni, credo che la spalla potesse meritare qualcosa di più. Sicuramente non è che siamo stati superiori o meno, però insomma, a livello d'occasione assolutamente sì. Loro una, noi tre, però insomma, credo da questo era una partita a cui ci tenavamo molto per la classifica, ma soprattutto per capire a che punto era la spalla a livello di personalità, di crescita, di identità. Sicuramente non siamo partiti benissimo, poi piano piano siamo riusciti a fare quello che abbiamo provato, i ragazzi hanno messo in campo quelle sono le qualità e alla fine abbiamo fatto un bel risultato. Possiamo dire che la spalla ha superato anche questo esame? Sì, direi di sì. Ha fatto la gara che doveva fare, attenta, senza subire molto, insomma, contro una squadra forte come il Verona, un giocatore come il Pazzini, l'abbiamo limitato veramente bene e quindi, insomma, merita ragazze e complimenti perché sicuramente non è facile venire qui davanti a questo pubbio, a questo stadio importante, a fare questo tipo di risultato. Possiamo dire impeccabile la prestazione della difesa, compreso Meret, una sola circostanza, ma determinante il suo intervento su quella conclusione ravvicinata. Assolutamente sì, Meret lo criticavano, secondo me il portiere nazionale sta sicuramente affermandosi che è un ragazzo di grande prospettiva, sicuramente come lui o come altri possano sbagliare, come sbaglia l'allenatore, però insomma non bisogna avere fiducia, bisogna dargli fiducia, bisogna continuare. Sono contento, direi, della prestazione di tutti perché tutti hanno dato il massimo, quello avevano, sicuramente in altre partite a livello di gioia avevamo fatto meglio, però insomma bisogna dire che abbiamo dato a fonte la squadra più forte del campionato. Ecco, se qualcosa è mancato, è stata la capacità da metà campo in su di rifornire Antenucci e Flocari che hanno corso comunque tantissimo. No, no, hanno fatto una grande partita su tutto aspetto, gli ho fatto i complimenti appena siamo rientrati negli spogliatori perché sono tutti serrificati, hanno fatto quello che potevano fare, c'è un po' di rammario perché secondo me insomma potevamo anche portare via un risultato diverso, però insomma ci sono anche gli avversari. Classifica cortissima, il Presidente ha detto, oggi abbiamo avuto la conferma che la squadra ci può veramente credere. Noi bisogna credere in quello che facciamo, in quello che proponiamo, nel lavoro quotidiano perché questa è la nostra forza e sabato dopo sabato, partita dopo partita, la squadra sta crescendo e sicuramente non ci dobbiamo porre limiti, ma cercare di essere ambiziosi con la giusta umiltà e andare avanti. Sabato si torna a marza, pubblico favoloso anche oggi purtroppo è stato questo incidente in cui è rimasto coinvolto Pietro Veri che pensiamo tu conoscerai benissimo, ma diremo... Purtroppo le notizie sono queste. I tifosi Spallini, il rapporto era 1-3, però penso che anche dal campo ci siamo riusciti conto che anche i tifosi hanno chiuso in parità. No, devo dire, li devo ringraziare, mi dispiace perché li conosco molto bene, le notizie arrivano sembra che non sia un periodo di vita, mi auguro che sia così. E' una cosa che mi imprende un po' perché non pensavo fosse lui, non sapevo che era lui, ma mi hanno dimettato quello, insomma dispiace, però ringrazio il pubblico perché è stato un grande seguito, penso anche oggi la squadra abbia dimostrato il proprio carattere, la propria voglia, dando anche questa bella soddisfazione ai nostri supporti.